Quando io faccio le date insieme a te, fai un sacco di video, ma poi il video non esce mai. ZOOM! Devo capire perché ogni volta che canto in Italia, ho paura! Che se, infine ma... Don't be going out of my mind Ah ma 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 maind Don't be going out of my mind Ah ma 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 maind Don't be going out of my mind